Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Barbara D'Urso, dopo il turbolento addio a Mediaset, ha deciso di promuovere un'iniziativa davvero importante sul suo profilo TikTok. Con un video, la conduttrice ha annunciato che il prossimo 20 e 21 settembre ai bagni misteriosi di Milano, metterà in vendita gli abiti che ha indossato in 20 anni di carriera a Mediaset. Lo farà per una buona causa. Il ricavato di queste aste andrà infatti ad Arimo, cooperativa sociale che da più di 20 anni aiuta i ragazzi e le ragazze in difficoltà. Come mai indosso questo abito del grande fratello 4? Sottolinea Barbara D'Urso con un video su TikTok. Perché sto per condividere con voi una cosa bella che facciamo col cuore. Come sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera brusca il mio rapporto con Mediaset. Un rapporto che durava da tanti anni con un'azienda che mi ha dato tanto e alla quale ho dato tutto il mio cuore. Il mio contratto andava avanti fino al 31 dicembre e quindi io ho voluto e dovuto rispettare i termini. All'inizio di gennaio, com'è giusto che sia l'azienda ha svuotato i miei camerini con tutte le mie cose, anche quelle personali. Quindi c'è stato un grande tir carico delle mie cose, compresi anche tutti i miei vestiti e gli abiti che io ho indossato. Ho pensato di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare qualcuno. Ha aggiunto. Abiti del grande fratello, la fattoria, un due tre stalla, Circus, pomeriggio 5, domenica live. Metterò questi abiti a disposizione di Arimo, che è un'associazione molto seria nata nel 2003 che si occupa di aiutare le ragazze e i ragazzi fragili. Come si possono comprare queste cose? Ci saranno due giornate intense, il 20 e 21 settembre a Milano. Prima ci sarà però una vendita online sul sito di Arimo. Poi ci sarà anche una particolare asta. Per la tracciabilità di tutto si potrà pagare solo elettronicamente. Questi fondi aiuteranno i ragazzi ospitati nelle comunità di Arimo e anche le mamme ospitate nelle loro case. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.